Il Consiglio metropolitano ha eletto all'interno dei suoi componenti il direttivo del Parco Agricolo Sud Milano, Anna Scavuzzo, Pietro Mezzi, Giuseppe Russomanno e consiglieri. Come rappresentante delle associazioni degli agricoltori è stato indicato Dario Olivero e per le associazioni degli ambientalisti Paolo Lozza. Il sindaco metropolitano Giuliano Pisapia ha delegato Michela Palestra come presidente del Parco. E' stato fatto questo passo fondamentale perché ad oggi, prima della delibera adottata oggi in Consiglio, il Parco Sud era senza un organo direttivo e quindi con i poteri di agire. Quindi grande soddisfazione nell'avere eletto questo Consiglio come presidente, nominato dal sindaco metropolitano Pisapia, il preciso intento di dare ascolto ai territori, lavorare in modo da valorizzare il patrimonio del Parco sia da un punto naturalistico che da un punto di vista anche di motore, di economia e di valore aggiunto dei nostri territori. Il Parco Agricolo Sud Milano con le sue molteplici realtà agroalimentari rappresenta un patrimonio turistico che a poche settimane dall'apertura di Expo richiamerà migliaia di visitatori appassionati dell'eccellenza alimentare e ricettiva. Le numerose aziende agrituristiche presenti nel Parco garantiscono un'offerta di ospitalità originale e particolare.